Musica Ciao a tutti di YouTube, sono Salve e vi dovete vedere un video di oggi Sono qui nel secondo video di oggi Infatti ragazzi vi ricordo che alle 14.30 è uscito un altro video Non so perché ho effettivamente le cuffiette E vi voglio dire una cosa importante Prima di cominciare con i due video al giorno che sono partiti già da oggi E saranno così fino a tempo indeterminato Voglio prima dirvi come è andata la mia maturità Perché in tanti me l'hanno chiesto Quindi ragazzi sì, ho finito la maturità Ieri ho fatto il mio esame orale Che devo dire sono molto soddisfatta di come è andato Perché mi ero preparata davvero tanto per questo esame E sono soddisfatta di come sono andati più o meno tutti gli esami Come alcuni di voi sanno ho preso 14-15-15 agli iscritti All'orale ancora non lo so 15 è il massimo E quindi sono andati molto bene gli iscritti Sono contenta di tutta la mia carriera scolastica In realtà sono molto felice di come è andata Quindi se qualcuno di voi sta per iniziare la quinta Il quinto superiore o la terza media Quindi quest'anno avrà gli esami State tranquilli ragazzi L'importante è studiare tutto l'anno E poi le cose vi verranno da sole Lì poi dovete fare soltanto un ripasso generale Quindi sì, avevo un po' di ansia Ma in realtà nemmeno troppa Perché sapevo comunque di aver fatto tutto il possibile Di non aver di essermi lasciata dietro niente Non ho alcunissimo rimpianto Adesso non voglio cominciare dicendo Ora comincia la vera vita Ora la vita sta per iniziare No, perché la vera vita secondo me è iniziata 19 ormai anni fa Quando sono nata Non è che c'è prima una vita Una previta e poi la vera vita No, la vita è tutto quanto Va vissuto tutto al massimo Bisogna impegnarsi per tutto Tutto ha le sue difficoltà Tutto è relazionato a noi A come cresciamo Quindi ragazzi Non ascoltate quelle persone che dicono Sì ma la scuola No, è tutto importante Tutto quanto Tutto è difficile Tutto si può superare Niente impossibile ragazzi Non è che adesso mi comincia la vera vita Sicuramente si è chiuso un capitolo Della mia vita molto importante Se ne stavo prendendo un altro Altrettanto importante Questo è poco Ma sicuro E io non vedo l'ora di cominciarlo E di cominciarlo con voi Quindi ragazzi Questo è un piccolo vlog Per dirvi che sto bene La motorità è andata bene Non sono Sono un po' stanca Sì ma Sono pronta a spaccare il mondo A spaccare YouTube A spaccare tutto Voglio veramente cominciare Seriamente con questo progetto E con tanti altri progetti E vi ringrazio perché so che voi mi siete al mio fianco Quindi ragazzi Questo breve video è anche per ringraziarvi Per essermi stati vicini Durante questo periodo Abbastanza complicato Della mia vita Ovvero il primo importantissimo esame Il primo di tanti importanti esami Quindi grazie mille E voi sapete che potete sempre contare su di me Quindi qualsiasi cosa Mi raccomando Io ci sono E come voi ci siete per me E questa è una cosa importantissima Quindi ragazzi Io volevo solo dirvi questo Molto presto cominceranno nuove cose Come avete visto Ho già iniziato due serie nuove Visto che inizierò a fare due video al giorno Dovrò avere a disposizione più serie Appunto per poter riempire i giorni in più Perché non saranno più 7 video a settimana Ma 14 Quindi ho bisogno di più serie Per poter variare 14 video a settimana Cominceranno Ops I miei capelli Cominceranno alcune serie su console Cercherò di portare innovazione Settimana prossima Forse tornerà obbligo gadget Che forse alcuni di voi conoscono Insomma Ho intenzione di portare avanti Tanti tanti progetti E per farlo questo Ho bisogno del vostro supporto Quindi mi raccomando ragazzi Lasciate tanti mi piace Tanti commenti Noi ci vediamo in un prossimo video Domani alle 14.30 Ciao a tutti ragazzi